Seduta mattutina al Meri Rosi per la Salernitana, pochi tifosi a caccia di autografi e selfie cui sose ai calciatori come nel loro costume non si sono sottratti. Il tecnico portoghese prepara la gara di domenica con la Ternana con gli effettivi a disposizione. C'è solo un dubbio di formazione riguardo il partner di la Sanà Coulibaly in mezzo al campo dove, una volta conseguito il passaporto italiano, Martegani potrà essere disponibile. Il mercato non regala sorrisi a Paolo Sosa che lavora a testa abbasta ma non è certo contento dell'andamento lento dello stesso. Non può molto Morgan De Santis che ha lasciato il Meri Rosi insieme a Simone Lo Schiavo. Il DS è incollato al telefono giorno e notte ma non ha ancora ricevuto dalla proprietà l'ok per dare l'accelerazione auspicata e necessaria sul mercato. La rosa è incompleta e va rinforzata. Il presidente di Revolino vorrebbe evitare investimenti onerosi in questa fase ma chiudere operazioni importanti sulla base del prestito con diritto eventualmente di riscatto non è semplice anche per l'attaccante olandese del Monaco, Miron Boadu, l'ostacolo è questo. Il club monegasco deve ingaggiare un altro centravanti ma potrebbe dare il via libera al giovane olandese a patto che le condizioni contrattuali siano soddisfacenti per tutti. Resta sospeso anche il discorso con la Juventus per i nomi ormai noti ma anche per altri giovani talento di cui è dotato il club bianconero. Serve però anche uno sforzo economico. Rapporti personali e conoscenza dei calciatori sono un patrimonio importante ma il mercato è il regno degli affari e ognuno vuole avere un suo tornaconto. L'esordio in campionato con la Roma, gara per la quale la prevendita è stata gestita in maniera non proprio lineare e trasparente non è poi così lontano e il lavoro senza risparmio di energia dello staff tecnico e dell'aeroscutting necessiterebbe di una spinta e di un aiuto importante da parte della proprietà. Mancano all'appello diverse pedine e se per qualcuna si può puntare ad operazioni a costo zero quasi per qualche altro un budget non limitato ma adeguato al valore degli obiettivi inseguiti dalle potenziali plusvalenze future va messo in preventivo. Buona sola intanto a Verona, su Orlando c'è il Perugia.